Un'altra persona dovrebbe essere qui al mio posto, ma questa persona è stata uccisa da Vladimir Putin, da qualche parte in una colonia penale nell'estremo nord, oltre il circolo polare artico dove l'inverno non finisce mai. Io terrò viva la battaglia di Alexei, continuerò a battermi per il nostro paese e vi esorto a stare al mio fianco per condividere non solo l'immenso dolore che ci ha travolti e che non se ne va, ma anche la furia. L'ipocrisia è di quelli che si dichiarano verbalmente liberali e democratici, ma che vorrebbero vietare la presenza della Lega a un corteo come quello di oggi. Io penso che fosse doverosa la presenza di tutto l'arco parlamentare, perché poi tutto l'arco parlamentare nel valore della libertà si riconosce. Ci sono chiare responsabilità politiche dietro la morte di Navalny, risalgono al regime russo, risalgono a Vladimir Putin. Il nostro essere qui stasera è anche una solidarietà non soltanto alla sua famiglia, ma anche a tutti quegli attivisti che in questi giorni, in queste ore, per il solo fatto di manifestare pacificamente il loro dissenso, vengono arrestati in Russia. Noi democratici saremo sempre a difesa della libertà e della democrazia. Dove siamo? A Mosca o a Milano? Come vi siete sentiti? Sperimentati? Chiunque di noi, anche capitato a me nella vita di essere identificato, non credo che essere identificato sia in qualche modo un atto che comprime una qualche libertà personale. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori. In primo piano c'è ancora il caso di Alexei Navalny. Ieri con un video toccante, ma dai toni molto duri, la vedova, la moglie Giulia, ha raccolto l'eredità politica e ha accusato apertamente Mosca di aver ucciso il marito con un veleno molto potente, il Novichok. Peraltro le autorità russe ieri hanno fatto sapere che devono passare almeno altre due settimane prima di riconsegnare la salma alla famiglia per effettuare ulteriori esami sul corpo di Navalny e la moglie Giulia dice si appunto prendono tempo per far scomparire le tracce del veleno e poi Giulia ha anche ribadito che si batterà per una Russia libera. Poi ieri c'è stata al Campidoglio la manifestazione, il sit-in appunto in ricordo del più famoso dissidente russo contro Putin, una manifestazione bipartisan, avete visto qualche contestazione alla delegazione della Lega, stamattina Salvini in un'intervista dice io capisco la moglie di Navalny ma bisogna fare chiarezza e la chiarezza la fanno i medici e i giudici. Poi c'è tutta la questione che riguarda il Medio Oriente, fanno paura, mettono paura le cifre, due cifre, fonti palestinesi hanno fatto sapere che si è superata quota 29.000 che quota è il numero delle vittime civili dall'inizio della guerra nella striscia di Gaza, mentre l'esercito israeliano ha annunciato che dall'inizio della rappresaglia sono stati uccisi 12.000 miliziani di Hamas. L'Unicef rilancia un allarme a proposito della situazione soprattutto dei bambini nella striscia, molti di loro rischiano di essere colpiti da, alcuni già lo sono, da malattie infettive. Poi ci occuperemo dei fatti italiani, della tragedia di Firenze con la politica, i sindacati che mettono in campo soluzioni per cercare di fronteggiare la terribile piaga delle morti sul lavoro e poi c'è la situazione all'ex Silva di Taranto il cui destino appare segnato, dovrebbero arrivare i commissari ma è in corso un braccio di ferro furibondo giuridico tra la proprietà, quella di Arcelor Mittal e il governo. Allora, bentornata Sarina Biraghi della Verità, ciao Sarina. Ciao, buongiorno. Saluto per la maggioranza l'onorevole Ilaria Cavo di Noi Moderati. Buongiorno, grazie per l'invito. C'è per il Partito Democratico l'onorevole Arturo Scotto, bentornato. Buongiorno. Do il bentornato a Marco Rizzo di Democrazia Sovrana e Popolare. Buongiorno. Nell'ultima parte peraltro ci occuperemo di una grande rassegna italiana che riguarda il Made in Italy e l'artigianalità italiana. si apre il Salone della Pelle a Milano e vedremo un po' cifre e numeri della manifestazione. Sarina, che cosa vuol dire quello che ha detto Salvini poco fa? Capisco Giulia ma la chiarezza la fanno i giudici e i medici? Beh, come dire, aspettiamo per dare una sentenza definitiva sulla causa della morte perché questa ancora non la sappiamo, la possiamo intuire perché noi sappiamo che come dire, le morti degli oppositori di Putin non sono per la verità mai morti naturali insomma, poter dire che Navalny potrebbe essere morto dopo la passeggiata all'aria aperta per un colpo di freddo, insomma, veramente è incredibile come possibile manifestazione. È chiaro che è, non so se è forte dirlo, è un omicidio di Stato, cioè ha fatto la fine che fanno tutti gli oppositori di Putin. Perché la Lega, come dire, continua nei suoi distinguo? La Lega continua nei suoi distinguo, forse per un'amicizia e un rapporto che la Lega ha sempre avuto con la Russia, che sulla quale, il rapporto su cui non vuole prendere totalmente la distanza. Credo che però in questo caso, insomma, l'abbiamo visto, quanto ha patito Navalny prima di morire, insomma, come è stato trattato. E io credo che le parole che ho trovato molto calzanti, quelle della von der Leyen ieri, quando ha detto che Putin teme le persone che non hanno paura di lui. E Navalny sicuramente era uno che non aveva paura di lui, per cui andava fatto fuori. Era effettivamente il suo vero oppositore. Io credo però che tutta, capisco la moglie che ne prende, come dire, il testimone, perché l'esempio del marito non può morire, deve essere portato avanti. E trovo bella la manifestazione di ieri al Campidoglio, che è riuscita così, senza bandiere, a parte le contestazioni, sempre da condannare, che ha riunito tutto l'arco appunto costituzionale in nome della libertà. Purtroppo probabilmente tutte queste manifestazioni in tutto il mondo credo che Putin non ne soffra minimamente, non sarà per niente scalfita il suo modo di essere. Peraltro, insomma, Salvini parla di sentenze, bisogna aspettare le cause della morte. Lo stesso Trump non ha mai citato Putin, ma ci sono in tutto il mondo chi non prende fortemente posizione. Ieri anche il caso di Lula con Israele, insomma, mi sembra che ci sia in tutto il mondo. Non sono solo i nostri partiti che a volte non fanno dei distinguo all'interno della coalizione di maggioranza. Voglio sentire Ilaria Cavo, in quanto componente della maggioranza, diciamo. Come suonano questi distingo Salvini? Peraltro ha anche detto, noi eravamo in piazza ieri per chiedere chiarezza e la fine di tutti i conflitti aperti. Tutte le fesserie sui legami con la Russia, i legami della Lega con la Russia, sono state archiviate e i giudici hanno detto che non esiste nulla. Fa anche questo riferimento, Salvini? Io posso dire che noi, noi moderati, eravamo in piazza ieri sera. Io personalmente ero il Campidoglio, sono orgogliosa di esserci stata a rappresentare il mio gruppo, esserci stata come cittadina, esserci stata per difendere quelli che sono i principi della libertà e della democrazia. E lo dico perché è stata la forza di questa manifestazione, perché è stata davvero bipartisan e perché c'eravamo tutti. La forza di questo evento è il fatto che ci fossero tutti i gruppi e che aver affermato il principio che non ci possono essere divisioni di fronte alla necessità di riaffermare questo. Le contestazioni della Lega nascono anche da quello che dice oggi Salvini, cioè il fatto di non prendere nettamente le distanze dal regime di Putin, mettiamola così. Ma forse è da quello che è stato detto nei giorni precedenti, però c'è da segnalare e da sottolineare il fatto che ieri sera la Lega c'era alla manifestazione. Credo che questo sia più importante e superiore rispetto a certe parole e a certe dichiarazioni che sono state fatte nei giorni precedenti. Io non sono un interprete delle parole di Salvini. Io posso dire quello che pensiamo noi, rimarcare il fatto che la Lega c'era, che ieri è stata una manifestazione compatta di tutti, quindi la posizione, la ribellione a quello che è accaduto e la condanna rispetto alla morte di Navalny è unanime e vede tutti i compatti. Dopodiché è evidente che quello che è accaduto, io porto la nostra posizione, noi vediamo un oppositore al regime di Putin che è stato incarcerato, è morto in un carcere, un dissidente. È evidente che non si può sapere, è chiaro che saranno dei magistrati, dei medici a stabilire esattamente puntualmente quello che è accaduto. Non lo possiamo sapere noi. Io ho fatto la cronista, in questo momento noi non possiamo sapere che cosa è accaduto in maniera puntuale e precisa. Esiste però una responsabilità oggettiva e la responsabilità oggettiva di quello che è accaduto non può che essere riportata e rimandata al regime di Putin e questo è l'evidenza dei fatti. Dopodiché io credo che il segnale sia stato forte e quello e l'impegno che ci deve essere, che è importante che ci sia, è il fatto che i valori della libertà, della democrazia, quello per cui questo uomo si è battuto, quello per cui la vedova Giulia continua a dire di volersi battere, non devono uscire affievoliti ma devono uscire rafforzati oggi. È questa la sfida che abbiamo davanti. Allora riprendiamo la discussione tra pochissimo dopo la pubblicità, mentre vi mostro queste immagini che arrivano in diretta da Londra. Davanti all'alta corte di Londra c'è l'ultimo appello per il fondatore dei Wikileaks Julian Assange, come sapete è stata chiesta dagli Stati Uniti l'estradizione, negli Stati Uniti Assange è imputato nel processo per la pubblicazione dei file militari e diplomatici segreti, vedremo quale sarà la decisione, un altro caso internazionale di cui si è molto parlato e si parlerà ancora a lungo. A tra poco. Allora, prima vi mostravamo le immagini da Londra, la decisione della Corte Suprema sull'estradizione per Julian Assange. Queste immagini invece arrivano da vicino Roma, vediamole, sono ancora immagini di trattori, delle proteste degli agricoltori. È prevista un'altra manifestazione in tono molto minore, diciamo, oggi intorno alle 12 a Roma in piazza della Repubblica. Ecco, qui c'è una fila di trattori che da Monte Rotondo sulla Salaria poi si dirigerà verso Roma. Ecco, tanto per capire insomma quante cose succedono mentre ci confrontiamo su anche questi temi e altri grandi temi. Vado da Arturo Scotto. Arturo Scotto, insomma chiedo anche a lei, intanto voglio dare conto di quanto ha detto poco fa il capogruppo della Lega al Senato, Romeo, ha detto io penso che su Putin abbia sbagliato tutto l'Occidente. Adesso che si voglia dire che è colpa di Salvini e della Lega mi sembra davvero che è qualcosa che non sta minimamente in piedi. Hanno sbagliato tutti i governi occidentali. Le distanze la Lega le ha prese subito il giorno stesso che Putin ha invaso l'Ucraina. Ma intanto mettiamo le cose in ordine. Mi fa un po' specie questo garantismo esibito da Salvini nei confronti di Putin a proposito del terribile omicidio di Stato, veniva definito nei confronti di Navalny. Qui il punto non è semplicemente come è stato ammazzato. Il punto è che non è da paese democratico tenere prigioniera una persona per opinioni politiche. Dunque Salvini deve dire innanzitutto questo. Secondo, Romeo può dire quello che vuole. È vero che ci sono stati degli errori nell'Occidente. Che dubbio c'è? Innanzitutto da parte dell'Europa che ha, diciamo come dire, attraverso scelte sbagliate sul terreno e l'energia... Pensiamo al rapporto tra la Merkel e la Russia. Creato una dipendenza oggettiva dalla Russia di Putin e dalle sue risorse naturali. Però non siamo stati noi a dire meglio mezzo Putin che due Mattarella. Non siamo stati noi ad andare a firmare gli accordi con Russia Unita dell'Organizzazione Giovanile e del Partito dei Salvini. Non siamo stati noi a recarci al Metropol e trattare quello che sappiamo è stato trattato. Insomma, anche qui ci vuole un po' di decenza quando si parla della verità storica. E mi pare che la Lega e la decenza l'abbia persa tutta. Marco Rizzo. Marco Rizzo ieri non è stato al presidio. No, no. Non vado a una roba che viene convocata da calenda per definizione, ma parte la battuta. Il tema è un altro. La Lega fa campagna elettorale. Quindi sentirete Salvini dire questo, sentirete Salvini parlare degli autovelox. Insomma, non meritano altre attenzioni. Il tema è capire, questa è una morte drammatica, ci mancherebbe, il tema è capire questa vicenda del doppiopesismo. Se io vi dico Gonzalo Lira, a voi che siete a casa, voi non sapete chi è. È un giornalista detenuto in Ucraina, l'Ucraina deve entrare in Europa, è morto in carcere adesso a gennaio. Era un giornalista americano-cileno, incarcerato per motivi politici in Ucraina. Noi non sappiamo chi è in Italia, perché ci sono due informazioni. Quella russa, che fa la sua propaganda, e quella occidentale, che fa la sua propaganda. Questo è il tema. C'è un doppiopesismo incredibile. Assange è talmente grande la cosa, ma anche non puoi pesare queste cose. Si fa la fiaccolata per Assange. Non è così. C'è un ordine che viene dato. Se questo doppiopesismo non ci fosse, allora uno va alla fiaccolata del Campidò. Il problema è che ci sono delle cose che accadono, a cui vengono date certa importanza, e altre che vengono totalmente nascoste. Questo è il tema della libertà, della democrazia. Non ci possono essere due pesi. Nel merito... che Putin è il responsabile della morte di Navalny. Ma Putin, scusate, il tema è proprio questo. E anche il tema della coincidenza. O Putin è stupido, oppure scusate, quello andava tenuto semmai in una teca di cristallo. È chiaro, no? A marzo si vota, tra un mese. Putin, tra virgolette, è uscito bene da questa grande intervista, l'hanno vista quasi mezzo miliardo di persone con il giornalista americano. Stanno vincendo la guerra, a differenza di quello che ci stavano dicendo noi, per far arrivare le armi, per far uccidere centinaia di migliaia di russi e di ucraini. Poveri tutti. martedì c'è la sentenza, oggi c'è la sentenza su Assange. È una coincidenza? Può darsi. Poi pare addirittura, se fosse vero questo sarebbe ancora più inquietante e interessante da indagare, che ci fosse in atto un possibile scambio di prigionieri. Di cui si era parlato. Benissimo. Ecco, io vorrei che il giornalismo, l'informazione, parlasse anche di queste cose. Non solo di Navalny, che era un estremista di destra, conclamato e che adesso diventa il campione della libertà in Occidente. Perché di questo stiamo parlando. Allora, il tema è confrontarsi non con i partiti, ma con un partito unico del sistema, che è l'informazione. Perché oggi, appunto, evitate, provate a trovare qualcuno, forse io in questa trasmissione, che pone qualche dubbio. Non che fa l'alfiere sconclusionato di Putin, come fanno quelli della Lega, perché devono cercare di prendere, dicono, ma qualche voto lo dobbiamo ancora prendere, c'è un'opinione pubblica italiana che non la pensa, come il partito unico del mainstream e dell'informazione. E quindi la Lega, come dire, dagli autovelox a Navalny, deve cercare di prendere qualche voto. Voglio darvi conto anche di un'altra notizia che riguarda la Russia, perché la notizia è arrivata poco fa. Una cittadina russa-americana di 33 anni, residente a Los Angeles, è stata arrestata nella città russa di Yekaterinburg con l'accusa di aver raccolto fondi a favore delle forze armate ucraine. Lo ha fatto sapere l'agenzia TASS. L'accusa nei suoi confronti di alto tradimento, tanto per capire l'area che tira in Russia. Allora, voglio ripartire da Sarina Biraghi, perché parlavamo di campagna elettorale. Intanto sentiamo cosa ha detto ieri Ursula von der Leyen, che si è ricandidata alla guida della Commissione europea. Sentiamola. Quando allora mi è stata posta la domanda se potevo immaginare di diventare Presidente della Commissione europea, ho detto subito sì, intuitivamente. Oggi, cinque anni dopo, prendo una decisione molto consapevole e ben ponderata. Voglio candidarmi per un secondo mandato e sono molto grata alla CDU per avermi proposto oggi come capolista del PPA. Spizzenkandidatin per la EVP vorschlägt. sostenere Ursula von der Leyen, che probabilmente sarà anche la sola candidata. Allora, non è casuale che ci fosse anche questa battuta di Tajani che è impegnata a Bruxelles nel vertice ministri degli esteri. Perché Ursula von der Leyen, poi, parlando del futuro dell'Europa, del voto che ci sarà a giugno, insomma, nomina come nemici i partiti che si trovano nel gruppo Identità e Democrazia di Salvini, dove c'è anche la Lega di Salvini, ma non nomina i conservatori e riformisti guidati da Giorgia Meloni. Beh, mi pare che... Non è casuale questo. Non è casuale. A proposito di destra, a proposito di populisti, a proposito... Esatto. La von der Leyen ha un ottimo rapporto con la Meloni e, appunto, entrando in campagna elettorale avrà già, come dire, scelto dove può trovare l'appoggio. Non dimentichiamo che lei è stata presidente grazie a un insieme, la famosa Unione Ursula, il voto dell'Ursula. E quindi, anche in questo caso, deve trovare i consensi. E non è strano che abbia ribadito quali sono i punti della sua campagna elettorale. C'è un passo indietro sul Green Deal nel dire che bisogna, sì, fare le misure, diciamo, per il contenimento dell'inquinamento, per... Vuol dire meno verde, più difesa, più fondi per la difesa. Meno verde, più difesa, cioè perché si è resa conto dopo, abbiamo visto i trattori in Europa, tutti si sono mobilitati e quindi più transizione, più aiuti all'agricoltura e più, diciamo, concentrazione sulla difesa comune. Perché servono più armi, serve l'aiuto dell'Ucraina e quindi serve una difesa più comune e quindi una produzione di armi che diventa anche un valore economico dovrebbe diventare per l'intera Europa. Quindi già... Guadagna più con le armi che col verde, parrebbe, no? Sicuramente, nell'aiuto all'Ucraina questo si è visto, che le armi sono state, servivano e servono tuttora perché Zelensky continua a chiedere armi, ben sapendo, a proposito di informazione, che comunque sta in un momento di grande... come dire, sta perdendo, non perdendo la guerra, ma insomma sta in un momento molto critico di questa guerra. e quindi mi pare che la Fonderlani abbia scelto la sua alleata, cioè ha scelto più la Meloni ovviamente che Salvini. Sui conservatori punta, perché i conservatori comunque sono un gruppo forte e il vento che tira sull'Europa è un vento più di destra che di sinistra, quindi forse vede più sicurezza in quell'esito. Diciamo due cose, intanto che ieri mi pare Orban ha fatto sapere che non metterà il veto al tredicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia e che nei conservatori guidati da Giorgia Meloni è entrato il partito di Zemmour, controverso, leader xenofobo francese e ha annunciato, questo forse dopo le elezioni europee, l'ingresso anche il partito guidato da Orban, insomma che fa capo a Orban in Ungheria. Vado da Ilaria Capo, insomma c'è un derby... Una galleria di mostri, una galleria di mostri. No, questo non mi avventura a dire questo, ognuno ha le proprie opinioni. No, ma voglio coinvolgere Ilaria Capo perché voglio sapere una cosa, perché c'è un derby in vista delle elezioni europee in Italia tra Salvini e Meloni, inevitabile nella maggioranza e c'è un derby anche in Europa però, a quanto pare. Certo, c'è un derby anche in Europa e io posso dire quella che è la nostra posizione, noi siamo il gruppo di noi moderati all'interno della maggioranza che sostiene questo governo. Ovviamente noi apprendiamo di questa ricandidatura di Ursula von der Leyen e noi siamo all'interno del PPE come forza che sostiene questa maggioranza. Che è il partito di Ursula von der Leyen, insomma. Ovviamente sosterremo la sua ricandidatura perché anche noi siamo una forza del PPE e poi quello che sarà l'esito delle urne e quindi di questo sistema proporzionale dirà quale sarà poi il sostegno e la compagine che si creerà a seguito ovviamente del voto in Europa. Non potrà che essere così e a seguito del voto e di questo sistema proporzionale che poi determinerà i seggi e quindi il valore dell'alleanza che ci sarà, PPE, conservatori, vedremo quello che emergerà. Chiaramente si tracceranno anche le linee di questa Europa. Però la domanda supplementare che ti faccio a questo punto del tu da giornalista nella tua prima vita è Giorgia Meloni, per i rapporti che abbiamo detto con von der Leyen, per un posizionamento che vuole avere, mira a entrare in qualche modo nella stanza dei bottoni dell'Europa e Salvini rischia di essere irrilevante? Lo dirà il voto, lo capiremo dopo le elezioni di questa prima settimana di giugno. Chiaramente il meccanismo proporzionale porterà a capire se ci sarà una convengenza più sulla parte conservatrice di Giorgia Meloni europea o sulla parte più orientata su Salvini. Sicuramente si capirà dopo il voto europeo. Marco Rizzo, come finiscono queste elezioni europee? E il vostro gruppo, il vostro partito, Democrazia Solana e Popolare, parteciperà a queste elezioni? Sì, parteciperemo. Stiamo raccogliendo le firme. C'è una stretta anche su qualunque esonero per le firme. Vediamo come va a finire. Il tema non è che un progetto politico esiste solo se riesce a varcare quella soglia. Se non saranno le europee saranno le politiche. Non è un problema per noi. Il tema è che nessuno ha la capacità di criticare questa Unione europea, che poi è la mossa per cui si muovono gli agricoltori, si muovono tante realtà separate che vengono attaccate. Pensiamo alle case degli italiani con la vicenda del Green, ma pensiamo anche alla guerra. Adesso la collega, anche io sono stato giornalista, la collega diceva che Zelensky sta quasi perdendo la guerra. Ma ve le ricordate le parole di Draghi e di tutto il concerto del Parlamento italiano alla fine del 2022, quindi poco fa? La Russia entro tre mesi collasserà, ci sarà la vittoria totale, mandiamo armi, mandiamo armi, mandiamo armi. Sono state fatte delle previsioni un po' imprudenti. Io ricordo a tre mesi dall'inizio della guerra, adesso sabato saranno due anni, si diceva che la Russia non aveva più missili a disposizione. Combattevano con i badili. Abbiamo seguito il conflitto giorno per giorno, lo posso dire, senza tema di smentire. Solo che l'informazione, gli italiani giustamente non se la ricordano. Quindi se noi facessimo una carrellata di quello che è stato detto su questa guerra, da eminenti personaggi che oggi sono ancora lì e non si vergognano di aver detto queste cose, salvo vedere l'ammontare delle centinaia di migliaia di morti che poi servono ad arricchire le ditte di produzione di armamenti. Ma entrando nel merito specifico, l'Unione Europea è questa cosa qua. Io chiederei alla signora von der Leyen, vorrei chiedere alla von der Leyen e finisco. Finisco con la von der Leyen, visto che sarà la nuova premier, sembrerebbe, dell'Unione Europea. Vediamo, vediamo. E io vorrei sapere, qualcuno gli chiederà, qualche giornalista, gli chiederà conto di quegli sms che sono stati secretati da parte dell'Unione Europea, con Burla, che era l'amministratore delegato di Pfizer, la spesa per i vaccini è stata di 71 miliardi di euro, è la spesa più grande che l'Unione Europea ha mai fatto. Ci sono questi sms con contratti secretati che la commissaria della trasparenza nel 2022 ha dichiarato che non possono essere visti. Perché? Forse perché, questo lo sappiamo, pochi lo sanno, è meglio ribadirlo. Nel 2022, all'inizio dell'anno, una fondazione è stata creata a Padova su queste dinamiche relative ai nuovi medicinali. E, guarda caso, il PNRR ha preso, ha dato a questa azienda oltre 300 milioni di euro a questa fondazione e si è scoperto che nel board, si dice così, di questa fondazione, sapete chi c'era? Il marito della von der Leyen. Caspita! Ci sono i messaggi con Pfizer, secretati, che non possiamo leggere. Ci sono 300 milioni, non i sacchetti che prendevano quei due lì al Parlamento Europeo. Questi sono 300 milioni di euro. che arrivano, e guarda caso, poi si è dimesso, per bontà di informazione, il marito della von der Leyen, poi si è dimesso. Ma intanto il grano è arrivato. Allora, su questa considerazione di gigantesco conflitto di interessi, mettiamola così, adesso poi ripartiamo. Voglio sentire scotto, ma dopo la pubblicità affrontiamo anche la vicenda di Firenze, i morti sul lavoro. A tra poco. Allora, tra un attimo affrontiamo il caso Firenze, la tragedia di Firenze. Questa intanto, sulle ultime parole, Marco Rizzo, rapidamente, voglio sentire sia scotto sia l'area a cavo. Ma senta, io contrasto Ursula von der Leyen sul piano politico. Noi candideremo il commissario Schmidt, che è il padre della direttiva sul salario minimo, una personalità della sinistra europea. Francamente, mi interessa poco quell'altro terreno. Io credo che i vaccini abbiano salvato milioni di persone. Credo che su questo terreno la destra abbia apparecchiato un tribunale speciale, attraverso la commissione d'inchiesta. Starei sul punto delle differenze profonde tra socialisti e popolari, a partire da alcune scelte che verranno operate. Penso al tema dell'aumento delle spese militari e della difesa comune. Anche qui il tema non è l'esercito comune. Il tema è se l'Europa ha una politica estera comune sulla quale mi pare non ci siamo fatti grandi passi in avanti. Lei recavo. Ma sul tema dei vaccini, ovviamente l'Iso si prende la responsabilità di quello che ha dichiarato. Invece voglio rimarcare, ma ci mancherebbe. Invece voglio ribattere sul tema della politica acquisto-armi. Tutto fatto, mi riferisco ovviamente alla guerra in Ucraina, alla difesa che è stata attuata e al sostegno che l'Italia ha dato alla difesa dell'Ucraina per incrementare le spese degli armamenti. La politica che è stata adottata dall'Unione Europea, condivisa dall'Italia, e il sostegno che l'Italia ha dato è stata per affermare un principio, che la Russia non può invadere uno Stato sovrano e deliberatamente invaderlo e noi rimanere fermi a guardare. Quello che abbiamo fatto, che continuiamo a fare... Vale anche per la Palestina? Vale anche per la Palestina? Riccio, lei ha fatto le dichiarazioni... Vale anche per la Palestina? È una domanda. Nella Palestina abbiamo fatto delle emozioni... Vale anche per la Palestina questo concetto? Se c'è uno Stato che ne invade un altro, vale anche per la Palestina? Quindi mandiamo le armi palestinesi come agli ucraini? Per la Palestina abbiamo fatto una emozione, abbiamo dichiarato... No, ma le emozioni sono una cosa, mandare le armi è una Stata. E siamo per la politica delle due Stati, noi ci siamo... Le ho fatto una domanda esplicita. Vale anche per la Palestina il dare le armi a uno Stato invaso? Due Stati, per la Palestina... Vale anche per la Palestina? Siamo per il sostegno e per il sostegno a Israele nel momento in cui Israele è stato attaccato e c'è stato un attacco sui civili. Israele non ha bisogno di armi. Siamo in questo momento perché ci sia una difesa anche di quei civili che si trovano a Gaza e per tutta l'azione diplomatica perché non ci sia l'attacco su Gaza. Lei ha sostenuto che noi abbiamo inviato armi per la politica delle armi. Noi abbiamo inviato e sostenuto la guerra in Ucraina uno Stato non dell'Unione Europea non della Nato quindi dobbiamo inviare le armi anche alla Palestina da un'invasione deliberata della Russia che non si può accettare per affermare per affermare il principio che non è uno Stato come la Russia non può deliberatamente invadere uno Stato libero e sovrano come l'Ucraina. e che se facciamo passare questo principio e non reagiamo come Italia e come comunità vale questo principio e lo stiamo affermando. Allora voglio portarvi riportarvi alla tragedia di Firenze intanto voglio salutare si è appena collegato a noi Fabrizio Nuti che è Presidente dell'Associazione Uniche Concerie Italiane buongiorno benvenuto buongiorno a tutti ecco magari miglioriamo un po' l'audio lo sento un po' basso così parleremo tra poco anche di linea pelle alla fiera Milano Ro questa edizione la centotresima edizione per uno dei settori diciamo in cui l'Italia si distingue maggiormente adesso ne parliamo intanto a proposito della tragedia di Firenze ci sono due elementi uno che si cerca ancora indicato come disperso si cerca la quinta vittima la seconda questione e che ci si interroga ovviamente come sempre accade davanti a queste tragedie su cosa fare per fronteggiare le morti sul lavoro vediamo presenteremo un pacchetto di misure che partono dal contrasto al lavoro sommerso al caporalato quindi al lavoro irregolare certamente si estendono anche al settore degli appalti della corretta applicazione dei contratti quella della sicurezza sul lavoro non è una materia di contrapposizione di contrapposizione politica ma invece che bisogna ricercare un dialogo il partito democratico ha delle proposte e partono dall'idea di estendere le tutele previste nel codice degli appalti per il settore pubblico anche al settore privato per frenare quella concorrenza al ribasso che spesso viene fatta proprio sulla pelle di lavoratrici e lavoratori anche se il codice degli appalti andrebbe migliorato perché il problema degli appalti a cascata lo abbiamo anche per le opere pubbliche ma nel privato c'è una totale deregulation il subappalto a cascata ovvero la possibilità per i subappaltatori di ricorrere a loro volta ad altri subappalti andrebbe proprio cancellato secondo il leader della CGL Maurizio Landini quando tu introduci la possibilità del subappalto a cascata inizia una catena che non finisce mai determina una svalorizzazione continua del lavoro e la messa a rischio della vita delle persone ma nella reintroduzione del sistema di subappalto avvenuta quasi un anno fa con la riforma del codice degli appalti secondo la Lega Centraleuropa in un cantiere ci sono varie attività e giustamente uno si prende varie aziende per fare quelle famose attività dopodiché però sulla legge sui subappalti credo che noi possiamo fare di più ma abbiamo bisogno di un'Europa che la vede in maniera diversa perché ci sono regole che purtroppo sono europee che ci impongono alcuni limiti sicuramente sicuramente ecco la famosa patente appunti potrebbe essere collegata anche a questa situazione vediamo come farla e sulla patente appunti a sorpresa Lega e CGL sono sulla stessa lunghezza d'onda a noi stiamo chiedendo tra l'altro da tempo di introdurre la patente appunti che vorrei spiegarla vuol dire che bisogna introdurre un sistema che le imprese che si mettono in gioco per avere gli appalti debbono avere una patente tra virgolette che certifica che loro non hanno avuto incidenti che non hanno avuto problemi che hanno rispettato le regole e se invece uno non è così ma è un'impresa deve non essere nella condizione di poter lavorare ancora Anche la CISL che per prima aveva proposto di estendere ai lavori privati alcuni istituti validi per i pubblici rilancia le sue idee sulla sicurezza in edilizia come lo scorporo dal ribasso d'asta dei costi della sicurezza e del lavoro il mantenimento degli stessi standard contrattali per tutta la catena d'appalto la responsabilità in solido Allora prima di andare a farlo sotto corona vado da Sarina Biraghi perché questa questione che rilancia per l'ennesima volta questo terribile allarme però ci pone davanti a delle considerazioni che io sommessamente faccio intanto non so questo me lo direte voi se servono più leggi le leggi ci sono probabilmente bisogna farle osservare e ci vogliono arrivo arrivo molti più ospettori come la ministra Calderone ha detto la seconda cosa ci vuole una maggiore diffusione della cultura della sicurezza sia per le imprese sia per i lavoratori e poi dico un'altra cosa noi ci meravigliamo di subappalti e anche di appalti al massimo ribasso ma la pubblica amministrazione li fa cioè c'è qualcosa che c'è un cortocircuito che io non riesco a capire ma intanto io direi che è stata un po' questa storia dei subappalti a cascata è un po' strumentalizzata perché appunto noi l'abbiamo la lega dice arriva dall'Europa arriva dall'Europa la cosa è stata firmata dal governo Draghi perché l'Europa ci imponeva questa cosa per una maggiore liberalizzazione in sostanza e maggiore rapidità nelle esecuzioni dei lavori quindi poi questo era un appalto privato non era un appalto pubblico quindi non c'entra niente io direi che la sicurezza dei lavori la patente appunto può essere uno strumento utile perché dovrebbe essere una sorta di carta d'identità dell'impresa quindi con scritto tutto quello che è capitato come la patente perdi punti nel caso di incidente e in questo caso di Firenze l'impresa aveva già avuto una cosa simile perché il crollo di una scala è un po' come il crollo di una trave non doveva stare lì però bisogna anche qui bisogna verificare quello che è accaduto se è stato la gettata di cemento è stata effettuata prima dell'aggancio della trave la dinamica ancora non si sa se è materiale scadente ancora non lo sappiamo quindi i controlli la patente può essere utile la sicurezza rispettare di più le norme della sicurezza ma questo vale per le imprese ma vale anche per i singoli lavoratori a volte che così tralasciano alcuni particolari ma poi non dico che è colpa dei lavoratori sto per dire un'altra cosa sto per dire che invece il lavoro e la come dire il lavoratore deve essere più considerato e deve avere maggiore forza contrattuale perché se il lavoratore perché avete detto di no al salario minimo ma che c'è il salario minimo perché avete liberalizzato i contratti a termine e la somministra ma scusi ma stiamo parlando stiamo parlando che se in quel cantiere c'erano contratti metalmeccanici perché quel lavoratore ha accettato il contratto metalmeccanico sa perché sa perché allora bisogna evitare questa cosa quel lavoratore non ha nessuna forza di rifiutarlo adesso ci torno perché sono stati indefolite le tutele i sindacali ma chi ha adesso il lavoro più flessibile più precario non è solo la Meloni ma oggi si è stata la Meloni adesso riprendiamo la discussione tu che la Meloni la fate ma questo non è il salario minimo ma cosa c'entra il salario minimo vi prego vi do tutto il tempo dopo Paolo rapidamente buongiorno buongiorno allora sull'Italia nuvole ce ne sono ma non sono particolarmente intense specie quelle al centro sud vicino vedete a ovest della Sardegna qualcosa di sembra più compatto però non ci aspettiamo precipitazioni particolarmente significative per la giornata di oggi sicuramente non al nord ma vediamo tutto il quadro nord centro qualche debolissima pioggia ecco sul basso Tirreno ma soprattutto in Sicilia qui ci potrebbe essere qualche fenomeno significativo molto isolato ma è l'unica zona in cui ci aspettiamo delle piogge che potrebbero essere appena appena significative nella giornata di domani sembra scomparire tutto perché di piogge veramente non resta più nulla nella giornata di giovedì si affaccia qualcosa di diverso e qui ci sarebbe sarebbe un po' il giro di boa perché probabilmente la seconda parte della settimana è decisamente più perturbata quindi con più piogge che sono quelli che aspettiamo nella giusta misura speriamo ma vedete che al nord c'è qualche precipitazione anche consistente in Liguria sulle zone alpine e prealpine centro e sud parliamo sempre di giovedì solo con qualche nuvola e pochissime piogge siccome l'abbiamo intravista nei giorni scorsi vediamo questa questa foto di Silvano titolo La quiete dopo la tempesta ora tanto quiete non mi pare perché queste nuvole sono piuttosto intense se questa è la quiete figuriamoci cosa era stata la tempesta rapidissimi pubblicità ripartiamo da Firenze e poi parliamo anche col presidente di Concerie Uniche Concerie Italiane tra poco Allora prima della pubblicità insomma qualche come dire un confronto vivace tra Sarina Viraghi e Arturo Scotto Scotto che cosa voleva aggiungere a proposito di quello che è successo Allora io voglio dire una cosa molto semplice intanto bisogna stabilire se in questo paese qua la vita umana conta meno del profitto se siamo d'accordo su questo tipo di impostazioni Chiudiamo tutti i discorsi Allora chiudiamo tutti i discorsi allora facciamo le scelte molto semplici noi le abbiamo proposte al governo fai un decreto Giorgia Meloni estendi le tutele dei cantieri pubblici su sicurezza e salute anche a quelli privati applica la legge 81 sulla patente appunti perché quel cantiere di Firenze non ci sarebbe stato ma non sarebbero più controlli mi scusi chiudi chiudi la vergogna dei subappalti a cascata e la lega non ci venga a raccontare frottole perché altrimenti ci devono spiegare perché questo paese da dieci anni è in procedura di infrazione sui balneari per esempio infine servono più controlli servono più controlli e serve ovviamente più prevenzione controlli si facciano scorrere le graduatorie sugli ispettori del lavoro 2000 ne sono stati assunti col governo Draghi ministro Orlando 2850 andranno ora siccome quelle graduatorie scadano a maggio si facciano funzionare si prendano tutti i lavoratori e dotiamo le procure di mezzi fino a immaginare la procura nazionale sul lavoro perché bisogna evitare che scorra la prescrizione i controlli anche sull'immigrazione diciamolo perché abbiamo visto che tra i morti c'era anche il pare una delle vittime era addirittura senza permesso di soggiorno allora anche l'immigrazione perché è tutto un tornare all'indietro intanto bisognerebbe eliminare il nero per esempio c'erano anche operai che non dovevano essere in Italia per esempio il governo ritiri la norma la stiamo discutendo ora sul DL lavoro che praticamente cancella l'obbligo di beige sui cantieri di Ili di beige che significa tracciabilità del lavoro stanno regalando altro l'Era Capo e Marco Rizio poi fatemi andare dopo da Fabrizio Nuti guardi carta canta c'è l'ina c'è l'audizione la Calderone ritiri non devo fare nell'avvocato difensore della Calderone neanche della Lega anche se la Lega non è qui presente questa mattina ma si è evocata in ogni dove in ogni momento tanto per Putin quanto per abbiamo dato conto anche delle posizioni della Lega voglio dire ci mancherebbe altro dopodiché non mi sembra che la Lega abbia incolpato l'Europa ha semplicemente detto Durigon che c'è una normativa europea che autorizza i subappalti ed è diciamo agli atti come si suol dire dopodiché siccome i subappalti a cascata sono autorizzati vengono attuati il tema non è se si possono fare i subappalti a cascata che si possono fare ma come vengono fatti mi perdoni mi perdoni mi perdoni però un attimo vi prego perché ha un poco tempo posso dire la mia posizione lei ha detto la sua posso dire la mia grazie penso che il punto sia non di fare nuove regole le regole ci sono bisogna semplicemente che le regole vengano rispettate negli appalti e nei subappalti a cascata non a cascata se le regole non vengono rispettate il tema è che non viene rispettata una regola non che viene fatto l'appalto il subappalto e questo è il tema come vengono applicati i contratti se vengono applicati i contratti corretti è quello che ovviamente sarà verificato anche in questo caso è chiaro che il contratto dell'edilizia prevede un tema di formazione molto specifico e questo è importante perché chiaramente c'è necessità di una formazione che implica formazione anche sulla sicurezza bisogna aumentare sicuramente i controlli e sono stati messi in campo anche più ispettori quest'anno perché vengano aumentati i controlli con un obiettivo di controlli più alto che si dà il governo saranno stati assunti precedentemente ma l'obiettivo che si sta dando questo governo è di arrivare a 100.000 controlli rispetto ai 70.000 anche che erano stati fatti precedentemente mi sembra che questi siano gli obiettivi più controlli e più formazione per quanto riguarda la sicurezza perché il tema della sicurezza è chiaramente centrale non credo che sia un tema di salario minimo perché non è un problema del salario qui è un problema di applicare le norme esiste peraltro anche il reato dell'omicidio colposo esiste che nel momento in cui l'omicidio colposo viene messo in atto per violazione delle regole su un infortunio sul lavoro viene anche addirittura aumentato da 2-7 anni di reclusione perché è collegato ai temi sul lavoro dopo di che si può ragionare su tutto è giusto che si riflette è giusto che ci si confronti è giusto che ci si confronti anche con il sindacato ma il tema è applicare le regole fare i controlli fare il mondo almeno quelle che ci sono Marco Rizzo nuove regole o applicare quelle che ci sono? è da 20 anni che queste stragi continuano sono oltre mille morti all'anno tre morti al giorno la media è terribile allora il tema qual è? i responsabili la politica perché la sbornia delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni che sono la fonte di questo disastro di questa strage totale sono della destra e della sinistra negli ultimi 20 anni hanno governato tutti e più si fanno venire le vene al collo urlando e poi sono quelli che fanno le leggi uno due il sindacato il sindacato concertativo cioè quello che concerta con le parti sociali e gli piace protestare quando i governi non gli consentono di andare al tavolo non a difendere i lavoratori ma a difendere se stessi questi sindacati concertativi servono ai sindacalisti le imprese che certamente approfittano con questi contratti a cascata poi c'è un tema fondamentale c'è la cultura della sicurezza sul lavoro che andrebbe instillata già ai tempi dell'adolescenza quasi della scuola elementare perché noi sappiamo che se prende fuoco un frigorifero non devi buttargli l'acqua perché c'è l'elettricità devi coprirlo con una coperta con della sabbia è bene che lo sappiano tutti ho fatto questo esempio molto banale perché invece a scuola la scuola invece di fare questo si indirizza che ne so sul terzo bagno per i transgender e stupidaggini di questo genere allora non riusciamo a collegarci con lo abbiamo visto un attimo col presidente dell'associazione Unic Concerie Italiane è un peccato chissà se nei pochi minuti che ci restano riusciremo a dirci qualcosa insomma mi pare di capire da quello che ho sentito che ci sono ricette diverse certo è che tutti i giorni è un bollettino di guerra quello che riguarda i morti sul lavoro c'è stato un morto in provincia di Napoli mi pare non ne parliamo perché c'è la tragedia di Firenze erano cinque ma ieri ce n'è stato un altro quindi anche in questo caso voglio dire tutti i giorni è un bollettino e però volevo sottolineare che non si può disconoscere il legame che c'è tra l'immigrazione e il lavoro nero il lavoro non in regola perché c'è è inutile che ce lo nascondiamo perché è chiaro che l'immigrazione non regolarizzata è l'immigrazione che va a riempire le sacche del lavoro nero ma lo sappiamo tutti i giorni perché poi d'estate quando andiamo a vedere le serre di fondi nella pianura pontina chi c'è che lavora i lavoratori non in regola secondo lei la colpa è del lavoratore in regolare o dell'impresa che fa il nero perché mettiamoci d'accordo su questo punto l'impresa può fare il nero perché ci sono persone che si offrono a minor prezzo attenzione è il meccanismo non è una questione di buoni e cattivi è un modello è il modello dell'esercito industriale di riserva è il modello dell'esercito industriale di riserva prendo gli regolari è un modello voluto dal sistema non dagli imprenditori e non dai lavoratori è un modello di sistema voluto dall'Unione Europea e dalle grandi multinazionali che hanno bisogno di sfruttare i lavoratori per abbattere anche i diritti dei lavoratori italiani perché se c'è uno che fa il tuo lavoro a 300 euro al mese tu sei obbligato ad avere un contratto più basso e questa è una scelta politica dell'Unione Europea di portare centinaia di milioni di persone per abbattere i diritti dei lavoratori italiani ed esteri i diritti noi abbiamo cercato di difendere abbiamo agito sul cuneo fiscale mi sembra che stiamo un po' debordando in questo dibattito posso chiedere una cosa donario Lecavo perché siccome vediamo ancora i trattori siamo sempre alle porte di Roma continua questa marcia lenta immagino poco silenziosa adesso qui vediamo solo le immagini non sentiamo l'audio dei trattori ripeto intorno alle 12 è prevista una manifestazione vicino alla stazione Termi a Piazza della Repubblica di pochi trattori queste sono ancora quelle frange di agricoltori che hanno protestato in tutte queste settimane che evidentemente non si accontentano delle promesse fatte dal governo e dal dietro front mettiamola così su alcuni punti specifici dell'Europa posso chiedere la domanda che le volevo fare siccome Scotto lo diceva per la questione di Firenze gli agricoltori chiedono anche un salario minimo per gli agricoltori di base proprio i contadini che producono ma noi la posizione sul salario minimo non cambia a seconda delle categorie poi ascolteremo anche la manifestazione di oggi sappiamo che è molto variegata la rappresentatività del mondo degli agricoltori ieri è stato approvato il Mille Proroghe alla Camera con anche la parte quindi la reintroduzione diciamo dell'eliminazione dell'IRPEF agricolo abolita un mese prima dagli stessi sulla parte sulla legge di bilancio però insomma sappiamo anche le varie richieste che sono state fatte a livello europeo quindi proprio perché c'è una diciamo rappresentatività frammentata e quindi richieste che sono diverse che sono arrivate diverse all'Europa l'Europa che è ritornata indietro su tutta la parte diciamo degli obiettivi sull'uso dei pesticidi e quant'altro vediamo quale sarà la richiesta di oggi ci mancherebbe altro mi sembra che il governo abbia dialogato e sia dialogante cercheremo è chiaro che la categoria degli agricoltori in generale in senso lato è preziosissima stiamo parlando di un qualche cosa di fondamentale diciamo per la produttività la tenuta la nostra quotidianità la sicurezza proprio ci mancherebbe però per quanto riguarda il salario minimo che invece è un tema largo ampio che non riguarda nello specifico gli agricoltori ma riguarda diciamo il paese la forza produttività del paese noi ben sempre detto che non siamo per il salario minimo è un dibattito che è già stato affrontato alla Camera semmai siamo per il salario massimo io parlo ovviamente per il mio gruppo parlamentare noi non abbiamo come obiettivo di avere tutta la maggioranza chiaramente è stata rigettata la proposta del salario minimo perché l'opposizione pensa che bisogna arrivare al salario minimo di un tot euro allora noi invece pensiamo che dobbiamo mettere in atto politiche per arrivare invece all'aumento sicuramente dei salari ma non con lo strumento di fissare per legge una quota minima salariale e lo stiamo attuando adesso ho fatto riferimento all'attuazione della riduzione del pugno fiscale che è un'iniziativa che non può essere trascurata tutte le iniziative che sono state fatte per i prese e famiglie andremo avanti su questa linea ovviamente nei limiti allora intanto vi ringrazio poi veriterebbe come dire anche la questione del salario minimo di cui tanto ci siamo occupati una puntata intera torneremo se ci rinvitate si si ci rinvidiamo david buongiorno ciao caro andrea buongiorno allora noi oggi tre grandi questioni la prima le reazioni italiane dopo la morte di navalni ieri abbiamo seguito tutti giulia navalni che ha detto continuerò il suo lavoro prendo io il testimone la manifestazione che poi c'è stata in Campidoglio a Roma che ha visto per la prima volta insieme tutte le forze politiche le contestazioni al capogruppo della Lega della Lega Romeo e poi andremo invece a raccontarvi anche la campagna elettorale in Sardegna che è un po' un grande laboratorio politico anche per capire cercare di intuire quello che può avvenire a livello nazionale il campo largo del centro-sinistra in Sardegna e poi vi faremo vedere a proposito di grandi opere di Ponte sullo Stretto di Messina la statale ionica detta anche la statale della morte faremo un racconto per cercare di capire sì Ponte sullo Stretto è importantissimo ne parlano tutti chissà quando lo vedremo però intanto vediamo anche qual è la situazione sulle altre grandi infrastrutture del paese avremo Luigi Manconi Tiziana Ferrario Anna-Lisa Chirico il professor Dorsi torna a trovarci Achille Occhetto e insomma poi vi aspettiamo Marco Ponti Francesco Maria del Vigo chicco testa per quanto riguarda tutta la parte delle opere quelle che ci sono quelle che sono da mettere a posto e quelle che qualcuno vorrebbe allora poco fa il portavoce di Putin Pescov ha detto riferendosi alle parole di Giulia della moglie di Alexei Navalny ha detto sono accuse assolutamente infondate e rozze contro il capo dello Stato russo appunto lo dicevamo all'inizio di questa puntata l'accusa di Giulia è stato Putin a uccidere mio marito mi dispiace non aver potuto avere questo collegamento con Fabrizio Inuti il presidente dell'associazione delle concerie italiane per l'apertura di linea pelle a Milano vediamo se domani riusciremo come sapete rispetto alle grandi manifestazioni che si tengono in Italia i grandi saloni insomma ci piace raccontare anche questa parte dell'economia italiana vediamo se domani ce la faremo è stato un problema di collegamento grazie a Marco Rizzo grazie a Ilaria Cavo grazie a voi all'onorevole Scotto grazie a Sarina Biraghi adesso c'è la reghetira noi siamo qui domani grazie a tutti